Appena sopra l'ombelico, a livello del plesso solare, si trova un centro energetico che è legato alla nostra autostima, alla forza di volontà, al potere dell'azione, al porre dei limiti sani nelle nostre vite. E questo centro è legato anche all'elemento del fuoco, è un sole splendente che brilla dentro di noi. Questa pratica è dedicata al portare attenzione e consapevolezza in questo centro energetico che è così importante, un centro che ci aiuta davvero a trasformare le nostre vite. Inizia il tuo percorso yoga a un euro per un mese intero. In KaYoga, la mia piattaforma online, trovi tutte le mie lezioni, pratiche base, lezioni più avanzate, meditazioni guidate e yoga terapeutico. Questo è il segnale che aspettavi. Ti lascio un link nella descrizione del video dove puoi accedere a tutti i corsi. Se sei pronto raggiungimi in Balassana, la nostra prima posizione di oggi. E a questa posizione oggi andremo ad aggiungere un paio di varianti. Allarghiamo la posizione delle gambe ed entriamo direttamente in una torsione verso il lato sinistro, infilando il braccio destro qui sotto. La mano sinistra può andare qui dietro la schiena. E questa prima posizione ci insegna già ad aggiungere questa torsione che ci invita quasi a strezzare via le tensioni fisiche dal corpo. Osserva cosa hai accumulato nell'ultimo periodo. Osserva le scelte che hai fatto nell'ultimo periodo, quelle scelte importanti che ti hanno aiutato a compiere passi in avanti nella tua vita. Osserva quei limiti sani che hai impostato per te stesso, quelli che ti hanno aiutato a crescere, ad evolverti. Uscendo da qui, portiamo la posizione nella direzione opposta, infilando il braccio sinistro sotto il destro. La mano destra può andare dietro la schiena, così da rilassare anche la spalla. Portiamo l'attenzione verso l'addome, immaginando un bellissimo sole che brilla lì dentro. Un sole è in grado di alimentare la nostra energia, la nostra forza vitale. Il potere delle nostre scelte. Sei consapevole della bellezza di quello che hai costruito nel tempo. Le scelte che hai fatto e che ti hanno portato qui, oggi. Con il prossimo respiro usciamo dalla posizione, riavviciniamo le gambe e facciamo un passo avanti con il piede destro, portandolo qui tra le mani. Andiamo direttamente in torsione anche qui. Uniamo le mani in preghiera e ruotiamo bene, rilassando la nostra schiena. Respira a fondo. Senti l'energia delle tue gambe. Senti questa energia a livello addominale, questo sole luminoso che ti aiuta ad andare ancora più a fondo. Senti il potere che esiste dentro di te. Il potere di scegliere, di decidere, di modellare la tua vita in base ai tuoi sogni e desideri. Ora, ispirando, sciogliamo questa posizione portando le mani a terra. Iniziamo a distendere la gamba avanti, andando in flex con il nostro piede. E ovvio qui puoi utilizzare dei supporti se necessario. Andiamo a sollevare il braccio destro verso l'alto e guardiamo in direzione della nostra mano per qualche secondo. Restiamo qui. Respiri lunghi, profondi. Sentiamo anche qui il nostro corpo pieno di energia nuova, forte, stabile, in grado di affrontare ogni sfida. Di nuovo piega il ginocchio, ritorna con la mano a terra, fai un passo indietro. Saliamo nel cane a testa in giù, distendendo braccia e gambe. Ci allunghiamo bene qui, immaginando questo sole che splende nel nostro addome. Una sfera di energia luminosa che illumina da dentro. Ritorna poi a quattro zampe, rilassa i tuoi piedi e fai un passo avanti con il piede sinistro qui, tra le mani. Di nuovo entriamo in torsione verso il lato sinistro, questa volta. Cerchiamo di sentire questa bella energia dentro di noi. La forza e la stabilità che vengono dalla terra. La fluidità che viene dai muscoli che sono elastici. E la luminosità che viene dal nostro centro energetico, dall'addome. Quel potere, quel fuoco che ci dà modo di affrontare ogni piccola sfida. Inspira. Ispira. E di nuovo riportiamo le mani a terra. Andiamo a distendere la gamba davanti. Anche qui puoi portare dei mattoncini sotto le tue mani se ne avessi bisogno. Altrimenti puoi entrare direttamente in torsione verso il lato sinistro, sollevando il braccio. Guarda su. Respira qui. Senti l'attivazione del tuo addome, forte, potente. Senti quella bella energia nel tuo corpo. Quel calore che si sviluppa da posizioni come questa. E ancora fai un respiro profondo, consapevole del tuo potere. Espirando, piega il ginocchio, riporta la mano a terra. Fai un bel passo indietro, uscendo dalla posizione. Poi siediti a terra. Piega le ginocchia. E andiamo a sollevare le gambe qui in Navasana. Immagina di allungarti nella schiena, portando consapevolezza nel tuo addome. Allunga tutte e due le braccia qui davanti a te. E respira. Senti questa bella stabilità. Quella stabilità che viene proprio dal tuo centro. Ed eventualmente qui, se vuoi una piccola sfida in più, oggi puoi allungare le gambe verso l'alto, continuando a crescere anche con la tua schiena. Lo facciamo per cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. E con molto controllo iniziamo a scendere a terra con le gambe e con la nostra schiena. Una volta qui, porta le ginocchia al petto. Stringile bene a te. Inspira. E espira. Fai cadere tutte e due le gambe verso il lato destro. Di nuovo visualizza questo sole che splende nel tuo addome. Quel fuoco che ti aiuta a bruciare via tutto quello che non serve. Quel fuoco che crea questo terreno fertile dove puoi coltivare tutto ciò che desideri. E ritorna al centro. Lascia cadere le gambe nella direzione opposta. Rilassati qui per qualche secondo. Visualizza la tua schiena elastica, libera, sciolta. Ancora facciamo un respiro lunghissimo dal naso e lentamente ritorniamo al centro. Sciogli entrambe le gambe giù a terra e raggiungimi in Shavasana. Porta la tua attenzione sull'addome, visualizzando un sole luminoso, proprio lì. Visualizza la sua luce che riempie il tuo corpo, donandoti vitalità, energia, forza. Potere di scegliere, di costruire, di trasformare la tua vita. Visualizza ogni resistenza che si scioglie via lontano dal corpo, dalla mente. Qui puoi immaginare il tuo addome che si rilassa, la tua mente che si rilassa e tutto che torna in perfetto equilibrio. Con il prossimo respiro, muovi le dita dalle mani e dei piedi. Risvegliati in modo graduale, dolce e consapevole che qui hai coltivato una grande forza interiore. E quando vuoi, sollevati. Puoi arrivare seduto a gambe incrociate. Porta entrambe le mani sull'addome. Grato per questo sole che illumina il tuo cammino. Grato per quella forza di volontà che ti insegna a raggiungere i tuoi obiettivi. Con determinazione. Sii consapevole che questo potere è sempre dentro di te. Torna qui tutte le volte che vuoi e con questo io ti ringrazio per essere stato con me oggi. Namaste. Il Manipura Chakra è un centro energetico davvero importante. Un centro che ci insegna ad attingere a quel potere che abbiamo dentro di noi anche quando non ne siamo perfettamente consapevoli. Ogni giorno ci sono scelte che possiamo fare. scelte che ci insegnano ad arrivare vicino ai nostri obiettivi. A realizzare i nostri sogni. Coltivare questo centro ti aiuterà tantissimo. Te lo assicuro. Lascia poi un commento qui sotto. Fammi sapere come è andata questa pratica per te. E noi come sempre ci vediamo prestissimo per una nuova lezione insieme. Namaste.